Sarà definitivo dal prossimo anno lo spostamento del mercato settimanale del giovedì a Cilavegna, il trasloco dalla sede attuale davanti al municipio a Piazza Fratelli Cervi, nella zona delle piscine dove si trovava in origine. Uno spostamento voluto dal comune e che ha fatto discutere gli ambulanti che nel 2018 avevano votato con un referendum per il cambio di destinazione. Adesso si torna indietro una decisione che i commercianti non condividono. Si teme che gli affari, tradizionalmente magri con l'arrivo dell'inverno, possono diminuire ancora di più con il trasloco del mercato in Piazza Fratelli Cervi, una sede giudicata più defilata dal centro. Ci troviamo bene qua e la gente vedo che viene qua perché dobbiamo cambiare e andare di là, anche perché poi la clientela che magari viene di qua, che abbiamo conquistato in questi anni, può darsi che la perdiamo andando di là. Non è che uno cambia amministrazione e sposta nel mercato. Per cui noi abbiamo cercato di venire di qua per migliorare anche il nostro lavoro. Loro fanno una promessa elettorale per spostare il mercato, però così rovinano delle famiglie. I cilavenesi invece non bocciano a priori la nuova sistemazione del mercato davanti alle piscine. Secondo me di là c'è più spazio, c'è più possibilità di muoversi. Devono vedere i guadagni, comunque anche di là ci sono le scuole che dicono i genitori, c'è la scuola materna, anche di là c'è il giro di genitori che portano i bambini. Secondo me gli anziani fanno un po' più fatica di arrivare là, però se è vero che mettono la navetta, ammesso che sia vero. Poi anche per quanto riguarda le scuole penso che sia un po' più agevolato se non ci fosse il mercato il giovedì. Non mi convince perché io abito in piazza e quindi sono comodissima. Sinceramente noi siamo stati comodi anche oggi perché abbiamo, come le dicevo, trovato il parcheggio proprio dietro la chiesa. L'amministrazione comunale di Cilavenia sottolinea come lo spostamento del mercato in piazza Fratelli Cervi sia stato voluto dagli stessi cittadini e condiviso nel programma elettorale. Tutto questo per permettere a tutti di trovare parcheggio in zona e in caso di emergenza garantire più agevolmente l'intervento dei mezzi di soccorso. Posizioneremo tutti gli ambulanti al centro del piazzale del mercato, porremo delle colonnine, delle cosiddette conchiglie che garantiranno dell'energia elettrica alla quale poi dopo gli ambulanti potranno collegarsi, soprattutto gli alimentari. Garantiremo anche, secondo i decreti di sicurezza, la divisione tra ambulanti alimentari e tutti gli altri ambulanti.